Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più, auguri papà, più, che carini mamma mia, adesso questa c'è la 12 trasmissioni, e io sempre qui seduto a questo c***o di TG2 a non fare un c***o, che nessuno mi ha fatto gli auguri, né della festa del papà, né della festa dell'uomo, né della festa della mamma, e invece quelli si fanno 12 trasmissioni con una canzoncina, e a me non mi fanno cantare nulla, proprio nulla di questo programma di c***o. Ma chi è? Gian Bruno? Uè, testina, ma che ti ricordi quando mi prendevate per il c***o perché mi hanno buttato fuori per i fuori onda? Che dici? Mo che c'hanno in c***o tutti e due che lo facciamo un bel tre, insomma.